città pulita un gioco di squadra che prato nel macrolotto zero second life opere in mostra ispettori ambientali controlli a montecatini tenere la città pulita è un gioco di squadra è lo slogan della nuova campagna di comunicazione di alia multi utility che mira il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi comuni chiedendo a ognuno di loro impegno quotidiano e determinazione nel mantenere al meglio il decoro e la bellezza delle rispettive città abbiamo una tassa odiosa di 20 milioni di euro l'anno che spendiamo per curare i nostri territori dall'inciviltà di chi abbandona i rifiuti vogliamo abbattere questa tassa ma per farla abbiamo bisogno che ognuno dia una mano la campagna di comunicazione realizzata dall'agenzia BAM è pensata sia per i territori dove la raccolta avviene con i cassonetti che per i territori dove la raccolta è porta a porta non basta l'azione della dei nostri operatori ma c'è bisogno che tutti i cittadini che tutte le imprese siano attivi e si sentano responsabili dei gesti che fanno farlo è importante importante per l'ambiente importante per il decoro è importante anche per l'economia oltre allo spot tv la campagna di comunicazione presentata al palavanni arena inaugurata due anni fa sarà arricchita anche da uno spot radio da manifesti cartelloni e banner digitali e sarà veicolata attraverso quotidiane online e offline televisioni cinema radio e canali social dell'azienda informazioni e sensibilizzazione nei condomini critici nelle scuole durante il capodanno cinese che prato il progetto di comunicazione e sensibilizzazione reato dal comune di prato e da alia multi utility per contrastare gli abbandoni di rifiuti migliorare la raccolta differenziata e promuovere il decoro urbano entra in una nuova fase dopo il centro storico e dopo aver visitato più di 50 condomini critici si sposta per il suo terzo atto nel macrolotto zero nella china town pratese dove più si fa sentire la necessità di sensibilizzare residenti questo è un progetto fortemente voluto dall'amministrazione pensato con una serie di dati che ci permetteva di intervenire su tre punti che noi ritenevamo critici la questione della movida nel centro storico i condomini più complessi più complicati del macrolotto zero alia per migliorare decoro e raccolta ha deciso anche di modificare da aprile gli orari di esposizione di imballaggi multimateriale leggero vetro e organico nei 131 esercizi di ristorazione uno sforzo enorme ma come come ho spesso detto non può bastare se non c'è un coinvolgimento di tutta la popolazione alia tra l'altro sempre dal prossimo aprile metterà in funzione nel macrolotto zero nel centro storico una nuova lavastrade che quotidianamente pulirà più in profondità strade marciapiedi quasi 400 artisti coinvolti nell'arco degli ultimi tre anni e una riflessione originale in continua evoluzione sul tema del mondo e trasformazione soprattutto dal punto di vista ambientale capace di ispirare a quegli stessi artisti tutti con meno di 28 anni di età narrazioni e lavori che riguardano l'intero ciclo della sostenibilità ambientale sociale e anche economica sono i punti di forza di second life tutto torna primo concorso artistico a livello nazionale incentrato sul tema arte e sostenibilità arricchito da laboratori dedicati a studenti e associazioni promosso da alia multi utility e giunto quest'anno alla sua terza edizione è una specie di condizione esistenziale che questi artisti mettono in campo i giovani vivono questo questo tema questo questo problema in maniera totale sono 130 gli artisti tutti tra i 18 e 28 anni di età che hanno partecipato alla terza edizione del concorso il cui taglio del nastro sul finire di gennaio è avvenuto nel cortile di michelozzo a palazzo vecchio le 30 opere finaliste selezionate da una giuria qualificata composta dai rappresentanti delle principali istituzioni culturali toscane che hanno anche scelto i tre vincitori in ordine di premiazione sofia salerno federica mariani leonardo cardamone e le tre menzioni speciali sono attualmente in mostra al centro per l'arte contemporanea luigi pecci di prato dove rimarranno fino al 24 marzo a monte catini terme i due ispettori ambientali di alia multi utility toscana in servizio dal luglio dello scorso anno su tre turni settimanali hanno eseguito 954 controlli ispezionato 1434 rifiuti con 42 sanzioni per un valore di 4.900 euro sono stati invece 165 controlli di pronto intervento ambientale avvenuti su segnalazioni di comune cittadini e polizia municipale con 450 rifiuti ispezionati e 23 sanzioni per un valore complessivo di 2.500 euro a presto